L'Ambasciata degli Stati Uniti ha organizzato un incontro presso la Pontificia Università Santa Croce a Roma sulla libertà religiosa nel mondo. Per discutere di questo tema ha invitato diplomatici, alti funzionari della Chiesa e protagonisti. Il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, è intervenuto spiegando i pilastri per proteggere le minoranze religiose, come superare l'indifferenza e promuovere il dialogo. Questo va oltre la semplice tolleranza. Ci sfida a cercare gli altri nella fiducia, nella comprensione reciproca e quindi a costruire un'unità che consideri la diversità non come una minaccia, ma come una fonte di arricchimento e di crescita. Durante l'evento si sono condivise idee e opinioni sul tema della persecuzione religiosa, specialmente in Medio Oriente. Un sopravvissuto al genocidio degli Yazidi ha raccontato la sua drammatica storia di prigionia da parte dell'ISIS e un attivista rohinga ha condiviso la testimonianza degli orrori a cui ha assistito durante le missioni in Bangladesh e Birmania. Il simposio è servito come atto preparatorio per l'incontro tra Santa Sede e Stati Uniti, che si terrà a Washington i prossimi 25 e 26 luglio. Sarà il prossimo incontro ministeriale sul tema della libertà religiosa. All'incontro parteciperanno leader del governo, religiosi e protagonisti di tutto il mondo. Grazie a tutti.